Da quale TCG conviene partire se ci si sta affacciando in questo sconfinato mondo? Che concetti di base bisognerà tenere a mente e risulterà difficile dare inizio al proprio viaggio per ogni titolo partendo da zero? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Sempre più curiosi si stanno avvicinando alle diverse dinamiche di gioco dei GCC presenti in mercato ed ogni volta che qualcuno di essi cerca di saperne di più la domanda sorge spontanea. Tra una vastissima scelta quale sarebbe effettivamente quella più giusta per dare inizio al proprio viaggio? One Piece? L'Orcana? Magic? Pokémon? La risposta breve è che tutte sono esatte a modo loro e allo stesso tempo tutte risultano sbagliate. Ci sono meccaniche di gioco che possono risultare ostiche da comprendere se non avete mai tenuto in mano delle carte. Ed è per questo che nel video di oggi vi proporrò 4 opzioni valide, le più giocate a livello statistico, per piantare la prima pietra miliare che vi vedrà protagonisti in questo fantastico mondo. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia le prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In colleziono da zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca colleziono da zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i titoli più adatti per chi vuole iniziare a giocare ai trading card game. Andiamo a dargli un'occhiata. Prima di iniziare ci tenevo a dirvi che c'è una cosa molto importante da tenere in considerazione, ovvero la presenza di uno dei titoli che vi sto per elencare presente fisicamente in una o più fumetterie o centriludici della vostra zona. Questo perché se non avrete nessuno con cui giocare la curva di apprendimento faticherà a decollare, vero che saranno sempre presenti le piattaforme online, ma se vi sorgerà una domanda a livello di regole e sarà sempre meglio chiedere nell'immediato ad un giocatore in carne ed ossa piuttosto che restare con il dubbio. In più, per quasi ogni GCC sarà presente più di un formato che vi riporterò puntualmente ove necessario. Così potrete andare a colpo sicuro una volta che vi ritroverete a dover chiedere ad un veterano quale sarà la vostra porta d'ingresso per l'universo dei TCG. Detto ciò passiamo al quarto titolo in ordine crescente. Sto parlando di Yu-Gi-Oh! Formato GOT ovviamente o Edison al limite. Perché questa scelta? Perché a detta di molti, questi due retroformati sono attualmente i più giocati ancor più dello standard. Personalmente gioco GOT per l'appunto e quindi posso assicurare ad ogni nuovo appassionato che non solo si divertirà da prendere le regole basilari che hanno messo le fondamenta per quello che è Yu-Gi attualmente, ma potranno costruire il proprio deck preferito spendendo il giusto e senza preoccuparsi di banned list che andranno a demolire una profile appena creata dopo tanta fatica. Terzo posto per Magic the Gathering. Anche qui sarà presente un formato, ovvero il Pauper. Se vorrete approcciare il primo TCG della storia e non saprete come farlo, di sicuro questo sarà il modo migliore. Molto popolare tra i giocatori, a tal punto da organizzare un grandissimo evento che vede centinaia di partecipanti chiamato Pauper Geddon, questa modalità permetterà come per il GOT di riuscire a costruire un deck senza spendere un capitale. Ottima soluzione a mio parere e se vorrete intraprendere questa via vi consiglio il mazzo tra mutanti. Ne ho parlato nel primo numero della Gazzetta del Coragiolo che troverete qui e che sono certo vi divertirà regalandovi allo stesso tempo la gioia della vittoria. Facili da giocare, efficaci e letali. Al secondo posto troviamo One Piece, uno dei titoli più giocati ultimamente e che di sicuro vi farà trovare qualcuno che sarà disposto a farsi due partite giusto per imparare. In questo TCG vi sconsiglio i top tier, ovvero i mazzi più forti, non solo perché costeranno molto ma anche perché dovrete testarne le dinamiche per capire se sarà un gioco che farà al caso vostro. Di soluzioni economiche comunque ne esistono, vedasi il deck dinamico ed Uta che soprattutto per la prima staziona spesso nella parte alta della tier. È una mosca bianca, costa poco e performa. In più le dinamiche risulteranno essere piuttosto semplici ed intuitive, insomma una garanzia se ci si vuole divertire magari coinvolgendo anche altri amici appassionati della saga piratesca per eccellenza. Dulcis in fundo quindi al primo posto troviamo l'Orcana. L'Orcana senza troppi giri di parole ha uno stile di gioco che tra tutti è il più semplice in assoluto e come dissi tempo fa e ribadisco tuttora è il prodotto entry level se si vogliono muovere i primi passi nei giochi di carte collezionabili. Ovviamente non consiglio di acquistare carte singole per costruire dei mazzi di fascia alta, soprattutto se sarete alle prime armi, ma divertere per lo più su degli starter o prodotti che ne contengono uno. Quando per la prima volta presi in mano il regolamento del titolo targato Disney mi venne da pensare che finalmente avevano creato qualcosa di adatto per tutti i curiosi che però non hanno mai spinto la loro curiosità oltre alla semplice idea. E devo dire che la pubblicazione del preludio e dell'avventura multigiocatore di Ursula hanno rappresentato una validissima porta d'ingresso che basterà solo barcare per ritrovarsi immersi tra le dinamiche di questo DCG. Menzione d'onore ovviamente va a Pokémon che ultimamente sta avendo parecchi consensi tra il settore giocato a discapito del collezionismo anche se in parte infinitesimale, ma se vi capiterà di poter affrontare un altro allenatore in una sfida non perdete l'occasione, non ve ne pentirete. Arconte e Flash and Blood? Fab è da molto che non lo pratico, almeno a livello giocato, mentre per il prodotto resta sempre piuttosto aggiornato. E vi dirò, sono usciti dei Bliss Deck, la modalità di gioco ridotta, niente male. Gettateci un occhio per curiosità e soprattutto vedete se qualche combattente gioca nella vostra zona. Per fornirvi un ulteriore supporto comunque, qui in alto è appena comparsa la playlist con tutti i regolamenti di gioco spiegati in meno di 20 minuti. Manca solamente Yugi, ma ho un progetto per il titolo nipponico piuttosto singolare. Per tutto il resto invece avrete a vostra completa disposizione i contenuti dedicati che vi procureranno tutto il necessario per iniziare a comprendere le basi. Perciò a voi la scelta. Da dove partirete? Salperete verso la volta del Grande Blu? Inizierete a fare squadra con Topolino e compagni? Risveglierete l'anima del Faraone? Darete una possibilità al primo GCC della storia di ammaliarvi tra le sue intricate storie? O darete il via alla vostra avventura come allenatore o campione nell'arena? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.